Vieni, ogni gemito, sei vita nel nostro cuore, una speranza d'eternità. Vieni, vieni a tu, la terra cresce nella cielo. Vieni, vieni a tu, la terra rinnova il cuore del cielo. Vieni, vieni a tu, il cuore rischia la terra, vieni, vieni. ...antica, in quarto, sotto, sulla strada romana, detta di Comano Massimo, la cui via principale, che taglia tutto il paese, li conserva il nome, via Desmar. E soprattutto rimane alterato il graticolato romano, fatto di strade che si interseccano particolarmente per chilometri. Questa struttura, costruita da l'esercito romano, preservò la zona dalle scorribande ed impulsioni barbarie che si trovarono rallentate da questo intreccio di strade e canali. Il territorio, che appartiene ormai al secondo pollo industriale della provincia di Venezia, non ha perso la sua comprensione di zona ricca di natura e di suggestioni paesaggistiche in quanto, su buona parte, prevale ancora il verde. La chiesa è stata ricostruita sul sito attuale nel XVI secolo. Nella facciata, un affresco ci offre da subito la denominazione della chiesa intitolata La trasfigurazione del Signore, a ripese da sempre il compadrono e San Sebastiano, da cui statua campeggia sulla sommità della popola Apsilofia. All'interno, tra le varie opere, spiuta un prezioso difendorino cimentale raffigurante il martirio di San Bartolomeo. È un bellissimo organo del 1800, appena restaurato. Questa parrocchia, in continuità con il grande radunno internazionale della famiglia, vissuta di là, assieme al Santo Padre, sta festeggiando la famiglia, proprio per ricordarla ciascuno, che essa è, però, tale, di ogni esperienza di l'occhio. Vogliamo quindi, in questa Santa Fissa, pregare perché tutte le famiglie trovino il proprio modello nella Sacra Famiglia di Nazareth, nella preghiera confidente e fiduciosa, e nella gioia del servizio riciclo. Ricorderemo anche i carri ammalati, i sofferenti, i terremotati, gli anziani e coloro che li assistono, e non dimenticando mai il nostro amato Papa e tutta la Chiesa. Presiede la liturgia eucaristica al Padre, Don Paolo Ciclietto. I canti sono eseguiti dal Corale San Sebastiano, diretta dal Maestro Michele Scandanguoto. All'ordine il Maestro Stella Maria Torvelli. A tutti buon ascolto e buon figlio. Preghiamo per la miseria della C Johnson, col Dio cheuku è salvato. Signore, vieni presti al nostro ayuntore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Che il Signore, per la miseria, che C сегодня èara. L'ho dato sempre si è il San 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 farmale, Gesù sempre a carire. Gesù, perdona le nostre colpi, preservaci dal foco dell'Inferno. Buongiorno a tutti i miei figli, specialmente negli uomini sulle cosiddette di qualsiasi. Nel primo mistero caudioso si contempla l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Padre Ius, che sei nei Cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo re, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in tempo. Padre Ius, che sei nei Cielo, sia santificato il tuo re, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in tempo. Padre Ius, che sei nei Cielo, sia santificato il tuo re, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in tempo. Padre Ius, che sei nei Cielo, sia santificato il tuo re, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in tempo. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta fra le donne e benedetta fra le donne. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta fra le donne e benedetta fra le donne e benedetta fra le donne. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 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 benedetta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Maledetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Salta Maria, Madre e Madre, Bibliotece e le Ponte a noi, adesso e te otero della nostra morte, amore. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è tutto del tuo seno, Gesù. Salta Maria, Madre e Madre, Bibliotece e le Ponte a noi, adesso e te otero della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, amato di Dio, prego e perdonare Adesso è la nostra morte Io non ispiro mai all'anima i timori che la lontanano da me Il demonio non mette mai nell'anima paure che la muovano a radicinarsi a me I timori che l'anima sente in certi momenti della vita sull'eterna sua salute Se hanno me Lasciano nell'anima Questa visione è l'oculsione di nostra vita